Il momento così difficile che sta attraversando il nostro paese si cerca insomma di trovare tutte le strade possibili soprattutto per venire incontro ai giovani. L'Unione Europea, opportunità per i giovani è proprio il tema del convegno promosso da E-Lions. Come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce proprio dal fatto che dall'analisi fatta dalla nostra associazione era evidente che la problematica del lavoro giovanile era quella che attraeva di più. Abbiamo fatto in modo di cercare di illustrare il progetto Garanzia Giovane che è un progetto che viene realizzato in tutti i paesi d'Europa dove il tasso di disoccupazione giovanile è al di sopra del 25%. In Italia e in Campania in particolare è stato realizzato un progetto con finanziamenti regionali ed europei. La regione Campania ci ha messo sopra anche fondi liberi per cui noi abbiamo organizzato per dare maggiore forza alla realizzazione del progetto un service organizzato su due sessioni. Una la mattina per diretta la domanda di lavoro e quindi ai giovani per spiegare loro tutte le potenzialità del progetto e le modalità di approccio al progetto stesso. Mentre nel pomeriggio la sessione sarà dedicata all'offerta di lavoro e quindi agli imprenditori, agli ordini professionali, gli artigiani, i commercianti per poter non solo cercare di incentivare la realizzazione di questo progetto ma di studiare eventuali miglioramenti per poter dare maggiore forza al progetto stesso.